salve a tutti dal lato di tex ciao amici contadini oggi vi faccio vedere l'aggiornamento delle piantine sia dei growth box completi che di questi che ho fatto io che sta nascendo quasi tutto e procediamo poi sono andato all'orto ho colto un po d'ortaggi ho riseminato un po di roba e ora vi faccio vedere primo raccolto un po di carote di odori prezzemolo pan di zucchero e la ricciolina questo anche dei peperoncini e raccolto giornaliero e dirrei bellissima roba tutta seminata e autoprodotta questa mattina in sera ho messo l'insalata messo un po di canastra un po d'iceberg quelli sono i plato vuoti e un po di sedanino tutti autoprodotti e questo è tutto l'avanzo già le ho riseminate queste qua invece sono pere e mele di varie qualità a noce tutto autoprodotto in più è il momento di prelevare le marze e fare le barbatelle d'uva io per ora l'ho messa a mollo e poi ci farò le barbatelle nuove ci farò il video comunque quindi come promesso vediamo i primi messi questi sono i peperoni iolo wonder si aspettate giro la telecamera ok eccoli qua direi che sono delle bellissime piante gambo erto color verdogno non bianco come quando finono le piante già stanno buttando già hanno buttato alla terza la quarta foglia qualcuno è più indietro e l'unica cosa che posso riscontrare di male in questi box sarebbe questo qua è lo stesso il medesimo che se avevano fatto le luci un pochino più lunghe in testa in coda sarebbe stato meglio perché se guardate bene questi box potete notare che la prima e l'ultima fila le piante sono più piccole più basse mentre al centro sono più alti più grossi e uniformi ma comunque sia e vedete queste piegano un tantino andando a cercare la luce dei neon però per quanto costano sono eccezionali e poi sono di plastica dura non è una plastica morbida sia i contenitori che tutto il vassoio quindi sono eccezionali le piantine non c'è niente da lì ve ne prendo un altro ecco qua questi sono i quadrati d'asti vedete e si riscontra la stessa cosa laterale sono un pochino più basse che piegano a cercare la luce ma per il resto sono sono eccezionali da ricomprare infatti sto valutando di comprarne altri e questo logicamente la luce poi dopo io come li tengo a temperatura di 21 gradi 8 questa è un termometro con la sonda piantata nel terriccio dentro la scatola per controllare i gradi e tutto qua procede bene ora metto via questi vi faccio vedere le altre germinate questi hanno 30 giorni direi che sono molto soddisfatto vai ora vi prendo i peperoncini questi messi nel video scorso di una settimana fa sono un po di peperoncini e anche loro come vedete stanno scappando e germogliando quindi stanno nascendo bene nulla da dire richiudiamo l'aria lo rimetto a posto poi che sta col telefono e stanno nascendo anche le zucche ora non lo tiro fuori ma si vede anche dalla scatola ok ho messo un po di pomodori devo mettere l'ottima fila e andiamo di qua qui i pisellini sono quasi nati tutti il rampicante il nano e il mezzarama come quello l'ho messo nel video quindi avrà una settimana di ritardo queste sono cipolle di sette giorni fa tropea tonda e tropea lunga ma la tropea lunga mi ha acceleccato io sono andato anche a guardare i germogli ma non era buono il seme lo rimetterò infatti faccio così e ho messo visto che siamo in luna calante ho messo anche la cipolla dorata di parma e la cipolla bianca musona insalate vecchie avanzate c'è danino che devo rimettere questi sono due solanum torvum che devo rimbasettare perché direi che stanno crescendo bene vogliono vasetto da 13 invece che da 10 qui sono un po di cipollette questa era una prova del seme ma non le butto le tengo qui lo stesso e queste stanno semplicemente davanti una finestra il quale il mio vicino che sta sotto dovrebbe tagliare la sieve penso che gliela taglierò io farò il buco della finestra come faccio di solito e qui ecco qua come siamo messi questi qui logicamente ora vanno in serra a freddo perché anche il loro periodo non le posso tenere qui dentro a 22 23 gradi perché sennò mai crescerebbero troppo e troppo in fretta invece questi erano da mettere fuori ma sabato e domenica scorso era ghiacciato oggi no ieri e oggi ho dovuto aggiustare degli attrezzi avuto da fare altre cose e c'è ancora da lavorare il terreno e sistemare tutto quindi per non perdere un mese l'ho messo nei vasetti e poi li metterò a dimora tanto c'ho la trapiantatrice quindi lavorerò il terreno farò il socchetto e poi zanza sparirò giù le piantine e tutto qua dopo le cipolle queste qui tra una diecina di giorni le passerò o nell'alveoli questi o questi poi vedo o anche questi vo di ripicchettamento è tutto qua ora procedo alla semina dei pomodori quindi cari amici come sempre se il video vi è piaciuto e vi è stato utile mi raccomando un bel pollice all'insù che serve e aiuta molto e noi ci vediamo al prossimo video ciao